Sicuramente il mercato italiano dell'automobile sta guardando sempre più con interesse al concetto SUV. È innegabile che il modo rivisto in chiave europea di questo concetto ha prodotto delle automobili nuove e di grande appeal. La posizione è rialzata ma non eccessiva, i motori potenti sì ma adeguati alla trazione integrale e le dodi di carico sono evidentemente fattori che ne hanno decretato un largo successo. Trasversale, votata alla mobilità, la SUV moderna ha iniziato a spostare progressivamente il suo bar di centro anche su concetti di comfort e di eleganza. Questi concetti oggi li ritroviamo ben rappresentati nella Volkswagen Touareg, una vettura che ha saputo migliorare il suo modo di essere senza sconvolgere la sua natura. Una linea che ha permesso forme leggermente più snelle con una minore altezza e larghezza ma con un comfort interno inalterato e volumi di carico minimamente migliorati. Il nuovo frontale che accomuna oggi tutta la gamma Volkswagen è forse poco distintivo ma così si sta sviluppando il codice di stile del gruppo. Ottime invece le prestazioni che sono assicurate dal longevo V6 3 litri, motore centrale della gamma che spinge con grande regolarità ed assicura oggi migliori prestazioni e minori consumi grazie soprattutto all'accoppiamento con il nuovo cambio automatico ad otto rapporti. Se a livello di comfort e di qualità le cose non cambiano drasticamente, questo invece lo si percepisce nelle prestazioni. Essendo il propulsore lo stesso della versione precedente, pensate che alla stessa velocità ad esempio a 130 orari i giri sono ben 600 in meno, merito del nuovo cambio che riesce a sfruttare al meglio il propulsore con scatti più pronti, un comportamento sul misto molto interessante e soprattutto ottimo nei percorsi autostradali. Minori consumi e migliori prestazioni sono un obiettivo già di per sé importante, ma certamente si potrà fare di più con soluzioni iride sempre più attuali e che vanno nel senso dell'efficienza. Come ci diceva prima, gli sport utility vehicle sono sempre più vicini ad un concetto di comfort pari a berline di classe superiore. E questo sarà il prossimo a lungo di questo concetto, che si è smarcato oramai e giustamente da preconcetti ed etichette che gli erano state stupidamente attaccate. Questa classe di vetture potrà certamente nel futuro prossimo esprimere qualità, senso ecologico e prestazioni intelligenti. Ci auguriamo che questo processo di modernizzazione venga accelerato da tutte le case automobilistiche.